Bella signora in sottofondo praticamente con Giovanni Albanese per parlare di Juventus, Valentina Ballarini dal coordinamento mi dice l'intervallo di stanotte è durato 25 minuti, a faccia 25, ma Shakira ha cantato 7 minuti e 15 secondi vedete la Ballarini stanotte vi ha controllato tutto e naturalmente 7 minuti e 15 secondi di concerto Shakira su 25 minuti c'era il montaggio del palco, il lupo che esce, ovviamente un po' di organizzazione spettacolare adesso che bisogna parlare e cantare con Bella Signora, Bella Signora è la Juventus che sta nascendo da Torino, Giovanni Albanese ti ripiazzo la musica in sottofondo così si balla naturalmente nella notte 23.37, ciao Giovanni ciao Michele buonasera un saluto a te e ai due ospiti, domani giornata fondamentale per la Juventus in chiave mercato perché è prevista una call tra Juventus e Leicester e qui il club inglese potrebbe rilanciare definitivamente per avvicinare la richiesta che è vicina ai 40 milioni per cedere Mattias Suley Leicester qualche giorno fa ha presentato un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus per toccare la quota dei 30 quei 30 la Juventus li vuole garantiti e su quella cifra bisogna aggiungere dei bonus ma a queste condizioni la Juventus cede il classe 2003 nonostante Tiago Motta lo avrebbe voluto trattenere in organico fa gioco alla Juventus l'interesse del West Ham per Suley al momento invece la Roma non ha presentato alcuna offerta ufficiale al club bianconero però ripeto domani sarà una giornata fondamentale perché sbloccandosi la situazione Suley la Juventus con questa gestione potrebbe dare il via alla seconda fase del mercato c'è sicuramente da completare il reparto mediano con Copminers e Giuntoli potrebbe avviare il dialogo con l'Atalanta ma c'è soprattutto da sistemare gli altri reparti e attenzione perché in difesa sono saltati i primi due obiettivi Calafiori e Di Lorenzo per quanto riguarda il difensore centrale il nome in cima alla lista è Thodibaut del Nizza qui il club francese potrebbe prendere in considerazione anche qualche giovane della Juventus come contropartita tecnica ma resta una richiesta attorno ai 35-40 milioni per quanto riguarda l'esterno Giuntoli ha preso una decisione andrà più avanti con un prestito Mendes ha proposto Cancelo è un nome che in realtà Tiago Motta non gradisce particolarmente si vedrà più avanti cosa offrirà il mercato delle occasioni Di Lorenzo era un uomo di fiducia tra virgolette di Cristiano Giuntoli ma bisognava fare anche i conti con la variante Conte ricorderete che all'inizio il suo percorso alla Juventus quando arrivò da allenatore Conte bloccò la gestione di Buffon che aveva fatto praticamente tutto con la Roma e anche in quel caso poi riuscì a trattenerlo chiudo con la maglia domani sarà presentata la nuova maglia della Juventus senza sponsor ed è una cosa che non avveniva da diverso tempo ci sono ancora diversi colloqui con brand internazionali che dovrebbero in qualche modo avanzare la loro candidatura entro la fine del mese domani comunque sarà ufficializzata la maglia nulla c'entra invece con il rinnovo del contratto di Ildiz se ne parlerà nei prossimi giorni per un adeguamento dell'ingaggio con il prolungamento il turco avrà la maglia numero 10 ma è un discorso distaccato rispetto alla presentazione della maglia di domani e sarà probabilmente annunciato domani grazie, grazie Torino, ciao, grazie Giovanni Albanese Seldesca Notizie, Naomi parliamo di Emile Audero, portiere della Sampdoria l'anno scorso in prestito all'Inter con la formula del prestito appunto con diritto di riscatto a determinate prestazioni in questo caso si parlava del 40% delle partite disputate in realtà Audero è stato per gran parte del campionato in panchina quindi l'Inter non ha potuto fare appello a questa clausola in questo momento si sta allenando il ritiro con la Sampdoria ma il suo staff mi riferisce che ci sono molte offerte da parte di club sia italiani che estere le piste verranno tutte tenute in considerazione anche quella che conduce sempre a Genova quindi potrebbe effettivamente anche... Longari! Sì, allora ti do degli aggiornamenti